Musica Nemmeno il maltempo ha fermato la tradizionale fiera di San Martino a Piedimonte Matese, un evento che ha visto la partecipazione di circa 180 espositori provenienti da diverse province, la presenza massiccia della Col di Retti, le cui bantiere hanno colorato di giallo l'intera città, poteva andare meglio se il tempo fosse stato migliore, ma l'assessore comunale Marcella Spinosa si è detta comunque soddisfatta tratteggiando dell'evento un bilancio più che positivo per la città e per l'intero territorio che certamente, ha detto, ha dato all'alto casertano una maggiore visibilità in termini di eccellenze. Questo era in sintesi l'obiettivo, al di là di quello tradizionale, che alla fine abbiamo comunque raggiunto. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it